Dottore, il 27, il 28 si partirà, il 27 arriva Novavax, un vaccino pare che sia anche accettato dai Novavax. Sì, speriamo che sia così, nel senso dovrebbe arrivare il 27 domenica, dovremmo partire il 28 con accesso libero, senza prenotazione. Il Novavax speriamo sia accettato da tutti, da chi non si è vaccinato finora, sarà un ciclo fatto di due dosi, a distanza di 21 giorni, sempre come gli altri, in tramuscolo deltoide. Doppia dose, l'abbiamo appena detto, e diciamo può darsi che sia apprezzato il Novavax perché in realtà stimola le difese immunitarie dell'organismo, in questo senso tramite la traccia della proteina Spike. Sì, dovrebbe essere questo il motivo che i Novavax verranno, speriamo vengano, sì. Ed un'altra caratteristica di questo vaccino è che viene conservato in frigorifero e non in freezer. Sì, ha bisogno solo di un frigorifero, quindi la temperatura da 2 a 8 viene conservato lì, quindi diciamo è più facile, tra virgolette, rispetto agli altri che hanno bisogno di temperature molto molto più basse. Sappiamo che questo vaccino verrà utilizzato per la prima volta nei confronti delle persone immunodepresse, gli arriveranno maggiori scorte o soltanto per quel numero della tipologia delle persone? No, no, le persone immunocompromesse avranno la possibilità dal primo marzo di fare una dose ulteriore, useremo i vaccini mRNA che abbiamo usato finora, questo vaccino verrà usato per chi non si è vaccinato finora, quindi farà prima e seconda dose uno che non si è vaccinato. La dose di richiamo per gli immunocompromessi si farà con il vaccino mRNA.